Sì, io sono Violet, un emigrante che vive in un'isola dell'Inghilterra e che ha un sogno, diventare una pop star. È una passione segreta che lei ha, per riuscire a vincere la paura e riscoprire se stessa e il suo talento. È un vero musical. Com'è stata l'esperienza da cantante? Incredibile, è stata una sfida. Avevo cantato qualche volta in pubblico, a scuola e in qualche film. Ho sempre voluto fare un musical come questo. Tre mesi prima delle riprese ho iniziato a studiare e a cantare con un vocal coach che mi ha preparato e si è preso cura della mia voce. Sono molto orgogliosa dei progressi che ho fatto. Sei stata una modella, adesso attrice. È molto diverso. In realtà ho fatto il primo film quando avevo due anni perché mia sorella è iniziato prima di me. Mi sento meglio a fare l'attrice che la modella. La modella prevede la stessa passerella che si fa sul red carpet. Potrei fare entrambe le cose. Grazie. 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 Grazie.